Su richiesta della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna è stato effettuato nel pomeriggio un trasporto urgente di kit diagnostici necessari per le strutture sanitari dell'isola. Il materiale è stato prelevato nella ditta produttrice a Bari e trasportato nell'aeroporto di Cagliari Elmas a bordo dell'aeromobile P180 dei Vigili del Fuoco. Grazie per la visione!